Il ritiro di Akan Cialanoglu è praticamente certo, secondo fonti vicine al giocatore, il centrocampista turco ha ricevuto diverse offerte da altri club e sta seriamente pensando di lasciare l'Inter. La notizia non è buona per i tifosi nerazzurri, che stanno già affrontando un momento delicato della stagione. Ciao tifosi nerazzurri, benvenuti nel canale di notizie dell'Inter. Oggi parleremo delle possibili sconfitte di Akan Cialanoglu e Milan Skriniar e di come questo potrebbe influenzare il rendimento dell'Inter in Champions League. Scopriamo tutti i dettagli. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare le notifiche per non perderti nessun contenuto. Lascia che le notizie. Sempre più probabile la possibilità che Milan Skriniar segua la stessa strada e lasci il club. Il difensore slovacco è uno dei giocatori chiave della squadra e la sua partenza sarebbe una grossa perdita per la squadra. Tuttavia, il tecnico Simone Inzaghi nutre ancora speranze di recuperare il giocatore per la prima partita dei quarti di finale di Champions League contro una squadra portoghese. Purtroppo non arrivano notizie incoraggianti da Piano Gentile, dove la squadra si sta preparando per la partita. Le condizioni di Skriniar saranno valutate sabato, ma a meno di notevoli progressi negli ultimi giorni, le opzioni difensive saranno limitate ai titolari. Darmian è favorito a giocare come centrodestra nel trio difensivo insieme ad Acerbi e Bastoni, con D'Ambrosio fermo. Più difficile l'utilizzo di De Vrij dal primo minuto, ma è ancora una possibilità. Lascia il tuo like per non perderti nulla qui, continuando. La situazione è preoccupante per i tifosi dell'Inter, che si aspettano una buona prestazione dalla squadra in Champions League. Da tifosi però dobbiamo sostenere la squadra e sperare in un miracolo nei prossimi giorni per poter contare su tutti i nostri giocatori per questa partita importante. Speriamo nel recupero di Skriniar e nella presenza sua e di tutta la squadra in campo. Credi che la squadra possa superare queste sconfitte e giocare bene in Champions League? Cosa ti aspetti dalla partita contro i portoghesi? Lascia i tuoi commenti qui sotto. Lascia il tuo like e iscriviti al canale per essere sempre aggiornato sulle novità dell'Inter. Cancelletto Forza Inter.